buongiorno dobro jutro guten morgen buon day o ti auguri una roba che la puoi puoi la puoi parte di int non arriva a chiatà è il tempo ti auguri il tempo per pensare perché poi tu pensi e poi la tua vita è già per spesso ti auguri il tempo di gioia perché gioiando tu resti giovane ti auguri il tempo di lei perché lei tu diventis sapiente sapiente ti auguri il tempo di smaraveati stanti srobisniogis ti auguri il tempo di ciriti se tu ti ciri tu ti chiatis e tu ti plazis e dopo ti auguri il tempo di dati a chiatris perché in che volte tu sarai scontent tu e tu farai scontent chiatris ti auguri il tempo di insumiati tu chiatarassi il troi per arrivare fin su testellis insomma ti auguri il tempo di vivi bene buone giornate e buone vite